il concilio di nicea respinse giustamente sia il modalismo che l'arianesimo confessando che il verbo è della stessa natura del padre dio da dio luce da luce dio vero da dio vero generato non creato della stessa sostanza del padre la frase va sempre citata intera per poterla ben capire e chiaramente contro l'arianesimo ario insegnava che il verbo era stato creato da nulla era la prima creatura nicea quasi rispondendo le affermazioni ariane le rovescia il verbo non è stato creato non è quindi una creatura ma è generato prima di tutti i secoli cioè da sempre cioè il padre è sempre stato padre inoltre il verbo generare suggerisce proprio l'unità della natura tra il generante e il generato naturalmente queste distinzioni per qualcuno possono sembrare un tantino incomprensibili ma in realtà si tratta del mistero di dio che è fonte della nostra salvezza